Però chi ha vinto, chi ha vinto? Fammi annunciare il vincitore. Allora, ha vinto Irene. Vince! La Fanta Merenda 2022! Sta spaccando il software, c'è quel tortito. Dobbiamo cambiare... Irene Laszlo! Oggi facciamo una puntata che si chiama Fanta Merenda, è un format nuovo che abbiamo inventato, per cui abbiamo degli ospiti e dovranno fare delle cose, se fanno certe cose fanno dei punti. Da cui nasce il concetto di Fanta Sanremo, che hanno copiato. Allora, va bene, a parte questa cosa bellissima. Giacomo? Buonasera, Giacomo. Giacomo? Buonasera, Giacomo. No, Irene. Buonasera. Irene, che parla anche lei comunque. Sì, sì, ci sto, ci sto. Nel dubbio, parla anche lei. Allora, i nostri ospiti di oggi sono di ideatori, alcuni degli ideatori, non tutti gli ideatori, però abbiamo due ideatori e uno di quelli che urla di più, di Fanta Sanremo. Fanta Sanremo, che figata. A posto, basta. Tra l'altro ho ancora... Cioè, dovrebbe essere ritornata la voce poco fa. Ecco. Andrà via fra poco. Andrà via fra poco, perché adesso lo facciamo urlare. Esatto. Fanta Sanremo, oggi tra l'altro abbiamo anche il pubblico in sala. Ciao, pubblico enorme. Che sta facendo i video, questa cosa mi mette un'ansia. Se abbiamo una telecamera lì, ciao telecamera, che va bene. Ma lei invece con quel video lì mi dà un po' fastidio. Mi mette un po' d'ansia, perché non so cosa ci fa dopo. Ti fa il TikTok. Guardo, non ho firmato nessuno a liberatore. Zero, zero, zero. Tra l'altro poi devi mandarla comunque a mia madre, perché solo se piace a lei lo puoi pubblicare. Ma, allora, Fanta Sanremo tutti sappiamo cos'è, perché ha avuto un successo strepitoso. E' il gioco fatto per Sanremo, per cui le canzoni, anche che non ci piacevano, le guardavamo per sapere quanti punteggi facevano i cantanti. E facevano punteggi dicendo papalina, salutando zia Mara, e poi qua vediamo che c'è un cavillo, perché dovevano dire un saluto a zia Mara, invece c'è chi ha fatto il furbo. E salutiamo Dargen D'Amico, che ci guarda. E poi potevano morire sul palco, ma nessuno è morto, erano mille punti. Accendere qualche fuoco. Accendere fuoco. Scaccolarsi. Scapezzolarsi. No, quello no, scapezzolarsi no. A scaccolarsi si è scaccolato Tananai. Comunque noi partiamo dalle cose importanti. Certo. Eccetera, eccetera. E quindi questo è stato una figata. È stato un altro dei motivi per cui questo saleremo è stato visto da tutti. Grazie, grazie. Prego. Va bene, ragazzi, grazie per essere venuti qua. Arrivederci. E fateci sapere, dai, perché so che farete altre cose nuove. Sì, faremo il Fanta Eurovision. Ci rivedremo proprio per parlarne subito dopo. Perfetto. A maggio. Dai, dai, grazie. Grazie a te. Ciao, ragazzi. Ciao, bella merenda. Allora, prima di cominciare le domande su cosa è Fanta Sanremo, come avete fatto a Fanta Sanremo, come si porta avanti un'idea come Fanta Sanremo, volevamo fare questa nostra rubrichetta delle 5 domande, come ci sei arrivato, che ve le farà Giacomo. Vai, allora, dove eravate? A casa. Di chi? Porto Saterpidio. Sì, l'idro di Fermo. Sì, sì, sì. Che è, dove? Nelle Marche, provincia di Fermo. Quindi, alla seconda domanda, non ha forse neanche senso, chi vi ha fatto perdere del tempo per arrivarci? Penso... Il ragazzo, no. Il ragazzo? No, qualcuno qua fuori ci ha chiamato. Sì, il Pruciz, il Pruciz, ci ha mandato un messaggio e ci ha chiesto di venire qui, quindi noi... Te l'aveva fatto perdere del tempo? Sì, sì. Ok. Terza domanda. Se non ci fossero limiti geografici, di storia o di codice della strada, con che mazzo vi spostereste? Bella domanda, bella domanda, con l'aereo, con l'elicottero forse, l'elicottero. Per qualsiasi... L'elicottero 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 per Porto Sant'Elpidio, l'elicottero per Corva, abbiamo... Infatti stiamo già creando anche un... Tra l'altro sali sull'elicottero e cosa dici? Ma quanto sono belle le marche. Pazzesco. 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 Quarta domanda. Per che cosa rinuncereste a tutta la vostra cultura? Per un elicottero. Per un elicottero, è bene. Anche tu? Devi rispondere. Sì, ok, sì, sì, lui ha detto così, quindi per farlo. Adesso, l'ultima domanda che vi fa, voi non potete rispondere, cioè non potete dire si rivede, non potete usare l'espressione si rivede, potete dire quello che vi pare, ma non si rivede. Chi non muore? È vivo. Madonna mi è diventato filosofico, dalle marchi. Troppo, eh. Allora, facciamo questo giochino veramente nostro, bellissimo, per cui facciamo una fantamerenda, cioè loro, chi di voi? Lei sta guardando il telefono, sta guardando le puntate di Moschio Selvaggi, ti vergognate. Prendiamo i punti, chi dice merenda, dentro una frase a caso, cinque punti. Poco. Perfetto. Chi dice Pruciz, invece Pruciz bisogna inserirla in una frase in qualche modo, che è il nome del gatto. Di senso compluto? Pruciz in fundo, fiori rosa, fiori di Pruciz. Please don't stop the Pruciz, non so, una cosa a caso. Dieci punti. Se invece usate Pruciz in una canzone, tipo please don't stop the Pruciz, e venti punti. Quindi cinque, dieci, venti. Perfetto. E alla fine chi vince, vince un premio bellissimo, fatto a mano. Basta. Questo è il regolamento. Avete segnato tutti, prendete appunti. E giocano? Cinquecentomila squadre. Cinquecentomila squadre. Cinquecentomila squadre. Che quest'anno sono state il numero di squadre davvero di Fanta Sanremo. Cinquecentomila squadre. Cinquecentomila diciotto. O dodici. Adesso non ricordo precisamente. Sì, sì, sì. È stato il record assoluto rispetto... Abbiamo più che decuplicato le squadre dell'anno precedente, che erano circa cinquantamila, e rispetto all'anno zero, l'edizione zero, quella del bar, sono per mille, perché la prima edizione era cinquanta. Quarantasette. Quarantasette squadre iscritti. Cinquecentomila non male. E il premio invece è andato a diminuire, perché il primo anno si vinceva un prosciutto, il secondo e il terzo, niente. Niente. La gloria. La gloria eterna, no, niente. La gloria eterna. Che non è... Chi è che quest'anno ha vinto Emma? Sì. Tra gli artisti ha vinto Emma. Invece mi dicevi che tra le persone normali, cioè quelli che non sono artisti, chi ha vinto? Cioè chi ha fatto le squadre, chi ha vinto? Diciotto squadre a pari merito, quindi tra cinquecentomila... E diciotto, non erano cinquecentomila e diciotto. Quei diciotto li provavi, noi degli ultimi diciotto. Gli ultimi diciotto. Attenzione. Sembra che una delle squadre che hanno vinto si chiamasse Prucic. Ah, attenzione. Però effettivamente io non l'ho fatto, perché tutto questo io non ho fatto il fantasy, non ho fatto tutti quelli intorno a me. Non lo so come giocare. Ho preso Prucic. Ho preso Prucic e siamo già... Segniamo. Sta segnando, per favore. Sì, io non l'ho fatta. La squadra, quando l'avrei potuta fare, è chiamarla Prucic. Va bene. Come si gestiscono questi numeri? Cioè da cinquantamila a cinquecentomila? Cosa è successo? Come si fa? Puoi rispondere? Posso parlare? Cioè, disegnate a mano? Beh, inizialmente era partita tutta così la situazione. Facevamo tutto a mano. Addirittura la prima edizione in assoluto avevamo un cartaceo. Cioè era, segna qui la tua squadra, con la faccia di Amadeus. Fatta da Giacomo, l'aveva stampata, tutto carino. Sì, lo facevate tra persone che comunicavano. Sì, sì, i quarantasette, sì, sì, quelli che frequentavano il bar. Poi c'è stata questa idea di aprire al pubblico. È andato molto bene. Come è successo questo passaggio dai mille aspettati ai cinquecento? Il passaggio, sicuramente, come diceva Irene, è tutto nato quando ci siamo spostati nell'internet. Perché prima era tutto cartaceo, tutto dentro il bar. E solo chi frequentava quel bar o chi era a conoscenza del Fantasarremo originario, poteva giocare a Fantasarremo. Ci siamo spostati nel famoso internet per vari motivi. Ma il motivo più importante era perché nel 2021 non potevamo andare fisicamente al bar. Quindi le persone non potevano giocare a Fantasarremo. Non potevano iscriversi al Fantasarremo. L'importanza del bar. Non potevano sapere le quotazioni del Fantasarremo. E soprattutto dovevamo trovare un modo per farci dare questi dieci euro a testa per poi comprare il prosciutto. Quindi abbiamo detto facciamo il sito così li costringiamo. Abbiamo fatto il sito, quindi grazie Covid. No, questa è una... tagliamo. A causa della pandemia... Possiamo dire che ha fatto anche cose buone. Ha fatto anche cose buone. A causa della pandemia ci siamo spostati nel magico mondo dell'internet e grazie al nostro tempo libero, essendo tutti musicisti, quindi essendo tutti temporaneamente disoccupati, abbiamo investito moltissimo tempo nel Fantasarremo. Abbiamo coinvolto tutti gli amici che conoscevamo e abbiamo... La cosa è diventata virale nel giro di pochissimo tempo. È arrivata a amici, influencer, conoscenti e comunque persone che... che sapevano utilizzare Instagram sicuramente meglio di noi. e in pochissimo tempo abbiamo raggiunto, ecco, le quattro cifre. Le cinque cifre poi le abbiamo raggiunte invece grazie ai cantanti. Ai cantanti. Quando è arrivata la voce ai cantanti, a Willy Peiote in primis... Prima Willy Peiote e poi Consommo Gaudio di... Quella che non capisco sta guardando... sta facendo un video. Di Porto San Giorgio. Quella di Porto San Giorgio, ospite nel pubblico, Consommo Gaudio suo. È stato tutto grazie a tutto. In buona parte, in parte, qualcosa, grazie a... Una grande parte. Sicuramente anche grazie a Fedez. Fedez, che è la persona più potente d'Italia, quindi noi riveriamo sempre al maestro. Fedez che ha letto in diretta con Francesca Michelin il regolamento. Hanno letto tutti i regolamenti, hanno detto più volte fantasaremo.com, il sito è crollato, cresciato nel giro di cinque minuti e per farlo riprendere... Quanto c'è voluto? C'è voluto, c'è voluto, più che altro c'è voluto l'intervento... Sono voluti rinforzi l'intervento di mio cugino, del fratello... Quello dell'America. Quello dell'America, l'americano, quello che dicevo prima, Massimiliano, e del fratello di Mattia, il ragazzo che ci faceva il sito, che è Carlo. Lo nominiamoli, che stava a Dubai. E la cosa bella è che lavoravamo 24 ore su 24 nel vero senso della parola, perché il primo a svegliarsi era Carlo da Dubai, con tre ore in anticipo, poi c'era Mattia l'italiano e poi c'era l'americano che lavorava di notte. Che è comunque l'inizio di una barzelletta, Carlo da Dubai, Mattia l'italiano... E tutti pagati con la stessa moneta, che è anche... No, una ceppa di niente, che sarebbe il premio del Fante Eurovision. Ecco, allora facciamo questo salto avanti, perché è molto bello il Fante Eurovision. Ci sarà il Fante Eurovision a maggio, che lo andiamo a vincere, ma a mani basse proprio, con Blanco Mahmood. Tra l'altro andrà anche Achille Laura in rappresentanza di San Marino. Un'altra cantante in rappresentanza di Malta, sempre italiana. Di Micheana Mena? No, no. No, sarebbe bello il premio. Ma è spagnolo, è spagnolo, è napoletano, è italiano, non si capisce più niente. Cioè, che bella notte, notte... Come faceva la canzone di Anamena? Quando la notte arriva... E poi c'è il pezzo, ma proprio già nella versione normale, non è un remix, che qua, che fa... Quando la notte arriva... Veramente una trashata atomica, bellissima. Salutiamo anche lei. E Eurovision, lo sa, lo vinceranno, Mahmood e Blanco. Sarà a maggio e ci sarà Fanta Eurovision. Farete Fanta Eurovision. Sì, chi vince Fanta Starremo vince la gloria eterna, chi vince il Fanta Eurovision vince una ceppa di niente. Ma, tecnicamente, è una cosa, tra l'altro. Sì, la stiamo creando con una stampante 3D insieme ai nostri amici di Bologna. Sì, abbiamo una stampante 3D di Flavio, che c'è dietro la telecamera, che purtroppo non funziona tanto bene, perché Flavio la rompe. Però è sua, quindi può rompere, non è un problema. No, quindi, a parte gli scherzi, sicuramente voteranno gli italiani dall'estero, questo credo che sia normale, ma quello l'hanno fatto anche per Fanta Starremo. Lo auguro, sì. E quindi come fate votare i francesi? Beh, farli votare si dovranno divertire con il Fanta Eurovision, però, ecco, sarà difficile. La cosa migliore da fare è far votare gli italiani all'estero per l'Italia. L'unica è quella. E come numeri, come metriche, come direbbe Giacomo, il mio Giacomo con la giacca. Qual è il vostro KPI? Eh, KPI. Non so cos'è. Difficile. Cioè, quali sono... Nel senso, a Fanta Starremo avete avuto 500.000 squadre. Quindi a Fanta Eurovision ne avrete 500 milioni, no? Se quest'anno dovesse mantenere il trend dell'anno scorso, dovremmo raggiungere le 50.000 squadre iscritte. La differenza è che quest'anno l'Eurovision è in Italia, quindi sicuramente avrà... Ad esempio, l'anno scorso le semifinali andavano sul Rai 4 e la finale sul Rai 1. Quest'anno sarà tutto sul Rai 1. I presentatori sono italiani, ci sarà molta più pubblicità da parte della stampa. Kattelan, Pausini e Mica. Esatto, sì. Anche delle radio stesse. Appunto, Kattelan, stessa Laura Pausini, che sicuramente pubblicizzerà la cosa. e quindi noi pensiamo che quest'anno... Beh, poi sostanzialmente l'Eurovision è diventato figo dopo che erano vinti male, schifo. In Italia sicuramente, ma forse anche in generale. Sì, anche un po' in generale. Sì, è la prima volta che un vincitore dell'Eurovision Song Contest riesce a raggiungere... Ha una varenza che è fuori anche dall'Eurovision Song Contest o dalla Lago Svizzera. nel giro di pochi mesi, pochissimi mesi. E lo vinciamo a mani basse. Stai guardando il computer come se avessi una domanda e quindi la lascio fare. Sostanzialmente avete avuto il percorso perfetto che un'azienda che nasce e sognerebbe di avere? Diciamo che lo scorso anno abbiamo fatto tutto... abbiamo iniziato tutto con le nostre forze. Poi siamo stati aiutati dagli enti locali che ci hanno aiutato a sostenere tutte le spese che abbiamo avuto. Nell'estate dello scorso anno è entrata in gioco Wonka Talent. Wonka Talent, che è un'agenzia di talent, di... Creative. Creative. Esatto. Anche grazie a loro quest'anno abbiamo strutturato un po' meglio la cosa e siamo riusciti ad arrivare dove siamo arrivati adesso. Avete avuto uno sponsor grosso? Abbiamo avuto lo sponsor ufficiale, il mio sponsor, che è SkyWiFi, che ci ha accompagnato da metà gennaio in poi e anche altri sponsor che ci hanno aiutato sempre a realizzare il sogno Fantasarremo. Insomma, abbiamo capito che per le aziende, per i media, per diventare famosi, per i contenuti creativi, la chiave in Italia è Fedez. Fedez. Senza di lui noi non avremmo fatto nulla. In generale. È l'unico sponsor, ma l'anno prossimo lo metteremo proprio sotto al nome Fantasarremo by Fedez. Vuole i soldi lui a quel punto? Secondo me non conviene. A naso non conviene. Vabbè, allora parliamo di cose invece... Un po' di gossip? Vai. Un po' di gossip. Allora, voi a un certo punto avete avuto a che fare, siete entrati in contatto con artisti comunque molto divertenti. Sì, sì. E quando è che è successo? Perché le prime volte no, il primo anno no, il secondo anno... Ma al di là degli endorsement sui social, cioè quando avete cominciato a vedere... C'era un video che ci hai fatto vedere oggi, Neri Marco Re che è venuto da voi e ha fatto il video con voi. Sì, quest'anno. Quest'anno, sì. E altri che avete incontrato? Quando è che è stato questo passaggio? Fai un elenco di tutti gli artisti. Vi siete emozionati o eravate voi a dire oh, cioè, piano perché mi ha fatto Fantasarremo? Anche meno, anche meno. Eravamo super emozionati. Anche perché la prima volta che Willy Peyote ha risposto alla nostra storia, eravamo a casa, lui ha iniziato a urlare. Come se... Urla sempre. Però, ecco, stavolta, diceva, non è possibile. Poi, dall'altro capo di Porto Sant'Eppide, quindi dall'altra parte della città, c'era Massi, l'altro amico nostro, sempre parte di Fantasarremo, aveva risposto anche a lui. Quindi sono chiamati... Sui profili personali, eh? Tipo, sì, sì, non su Fantasarremo, proprio il profilo personale, tipo, i ragazzini, no? 15 anni, mi ha risposto! C'è da dire che Willy Peyote, però, è il mio idolo di sempre. Stava per piangere. Sì, 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 no, 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 infatti è partito tutto da lui. Ok, queste sono ancora digitali, però, sono rapporti digitali. Sì. Quando è che avete schiacciato un 5 a Gianni Morandi? Quando è che avete toccato una persona famosa? Allora, penso il primo, sempre Willy? Hai toccato Willy Peyote? Ah, sì, siamo andati al concerto. Ho toccato proprio... Questa istante, mai me lo ricordavo. No, così volevo dire sulla spalla. No, gli abbiamo regalato la maglietta del Fantasarremo, siamo andati a vedere il suo concerto, quindi ecco, la prima volta è stata quella. Quindi lui è stato sempre la nostra prima volta. Sì, ci ha... Ci ha... Ci ha... Ci ha... Ci ha sverginato in tutto e per tutto. Social e dal vivo. Social e dal vivo. E invece poi il bagno di folla l'avete fatto il sabato di Sanremo, di quest'anno, quando siete andati su. Cioè lì dopo avete fatto... Loro. 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 Così è stato un passo indietro. Lavorare dietro stavamo, dai. Diciamo che c'è stata la parte della FIF, la maggior parte della FIF insieme agli altri... Diciamo cos'è la FIF. Federazione Italiana Fantasarremo. Ah, ecco. Che legalmente è niente. Niente, niente. È gloria. Anche questa gloria. Si è costituita come... Che lavorava all'interno del bar Papalina, mentre Papalina stesso, io e Alessandro Bravetti, che salutiamo, siamo partiti con la macchina, un viaggio... Della speranza. Speranza per andare a Sanremo. Quella sera stavamo a Sanremo, sabato sera stavamo a Sanremo. Stavate proprio nel teatro, eravate a Sanremo. Domenica stavamo a teatro. Avevate dei contatti per parlare con loro. Cioè, come funzionava? Domenica eravamo invitati a Domenica Inde con Mara Venier. Che? Mara Venier. Che? Un saluto a zia Mara. Un saluto a zia Mara. Ah, quella cosa che dicevamo prima del saluto a zia Mara è che Dargen ha detto nella canzone, perché nella canzone di Dargen dice un saluto a zio Pino. Ciao zio Pino. Ciao zio Pino, no? Il parente di Giù dice ciao zio Pino e nella canzone dice ciao zia Mara. E gli hanno dato quanti punti erano? 20 punti. Tipo Pruciz. Tipo dire Pruciz. Tipo Pruciz. Abbiamo detto 50 se lo metti nella canzone. Se lo metti nella canzone. Ok, ok. Ciao zio Pruciz. Ciao zio Pruciz. Nella canzone. E lui però gli è stata contestata questa cosa perché loro gli hanno dato i punti. Però tecnicamente nel regolamento c'era scritto che bisognava dire un saluto a zia Mara e non ciao zia Mara. Esatto. Lì c'è stato un... Però, però, cosa è successo? Dargen d'Amico lavorando con Fedez loro hanno comunque paura come tutti noi di Fedez perché comunque è potente. Sono stati chiamati dai legali. Non sia mai signore per carità diamogli i punti. Sì, abbiamo dovuto decidere se Fedez e quindi tutti i legali di Fedez o la vita. Proprio o Fedez e quindi abbiamo deciso di dare quel bonus. E ci mancherebbe. Le avete dati anche un po' a Fedez di punti quest'anno che non era in gara. Sì, sì, sì. Non è dubbio. Chi ha comprato Fedez quest'anno comunque ha fatto punti. Sì, sì, sì. Perché si poteva comprare qualsiasi artista. No, era una battuta. Solo Fedez. Quelli che partecipano più Fedez tutti gli anni. Anche la Fanta Eurovision se vuoi. Altra retroscena o dietroscena. Fanta Calcio anche. Sì, sì, lo puoi comprare al Fanta Calcio. Come punta, probabilmente. A proposito di Fanta Calcio Cattelan, così collegamenti a caso ha giocato per un po' in una squadra di calcio. Cosa c'entra? Niente, però mi è venuto in mente. Invece, tornando ad Argen e alle questioni un po' così spinose anche Emma che ha vinto ha preso dei punti perché sta inseguita sta inseguita alle forze dell'ordine che è il bonus del bonus dedicato che comunque ringraziamo perché non ringraziamo le forze dell'ordine. Dedicato a Urietta Berti il bonus, no? Esatto, che l'anno scorso fece un casino. Fece un casino, bellissimo. Quindi ogni bonus del regolamento comunque è dedicato a qualcuno o a qualcosa che è successo nei passati festival di Sanremo. Questo qui è dedicato a Urietta Berti. Emma Marrone non sappiamo come perché non sappiamo se la cosa fosse preparata o meno probabilmente non è stata inseguita veramente lei dice di sì è stata inseguita alle forze dell'ordine non è che andiamo a chiedere il verbale tra l'altro come dicevi tu prima nel regolamento non c'è scritto deve essere inseguita dalle forze dell'ordine davvero davvero le vere forze dell'ordine dalle vere forze dell'ordine tra l'altro erano vere forze dell'ordine l'altro San Giovanni ha cercato di corrompere un poliziotto per strada l'ha guardato malissimo abbiamo il video in cui lui poverino tra l'altro San Giovanni che è tanto mi sembra una persona tanto carina dolce e tenera però è uno che non sembra una persona famosa cioè non è che effettivamente sembra un ragazzino che va da un da un polizio e dice senti ma se do una cosa mi insegui però si vede questo video in cui lui chiede al carabiniero poliziotto di inseguirlo a piedi e poi lui che comincia a correre e il poliziotto che rimane fermo lì e lo guarda così ma quindi questa cosa ce l'ha mandato in privato ce l'ha mandato in privato quindi questo non l'ha visto nessuno perché poi probabilmente quel carabiniero poliziotto allora invitiamo San Giovanni alla merenda per farci vedere questo video tra l'altro San Giovanni ha fatto dire ad Amadeus Fanta Sanremo e Papalina il primo a far dire a un presentatore sul palco a proposito di facciamo un momento locale i giorni di Sanremo io me li sono visti tutte cinque ore ogni sera dall'inizio alla fine come le persone serie però c'è stato un momento in cui voi avete pensato forse è troppo perché c'è stato un momento in cui all'inizio era divertente perché era una cosa nuova proprio i primissimi dei primissimi esibizioni dei primissimi giorni dei primi ore poi dopo un po' ogni volta qualcuno si fermava alla fine dell'esibizione Amadeus posso dire una cosa volevo regalare i fiori volevo salutare Zia Mara volevo dire ti prego poi questa è stata la mia percezione e delle persone con cui ho parlato in realtà è diventata la cosa che creava quasi l'hype quella cosa che dici vediamo cosa succede e come la gestisce Amadeus esatto infatti il dubbio nostro era quello lì io non ho dormito no non dormiva lui secondo il terzo giorno più o meno mercoledì notte esattamente già lì c'era un po' la puzza di aver stancato con i si come ho rilasciato su un'intervista nel post scusami rendiamoci conto di cosa appena detto è un'intervista che ho rilasciato recentemente ho già fatto queste affermazioni che vado a ricitare perché recito il virgolettato il virgolettato che recito se non sbaglio il post internazionale esatto quando mi hai chiesto una dichiarazione appunto durante la settimana ho detto dico il marchigiano se potete mettermi lo virgolettato abbiamo avuto la sensazione di aver cacato fuori dalla tazza quindi abbiamo avuto quella sensazione lì nel senso che il mercoledì sera dopo appunto posso dire posso dire posso dire abbiamo paura di stancare ma soprattutto avevamo paura di come l'avrebbe presa Amadeus e tutto lo staff che c'era dietro al festival e Amadeus anche in questo ha dimostrato di essere oltre molto sportivo anche molto bravo perché le ha sempre gestite anche quando ha dovuto cacciare Darjean che era visibilmente un po' alterato forse dall'emozione però a un certo punto ha detto basta vai via non so se mercoledì giovedì o venerdì basta basta Darjean vai perché era lì che continua a dire come Montecitorio come cose perché era sovrecitato e lui la gestiva sempre bene quando si è messo a fare le flessioni con con Comi e lui è stato accusato di aver Comi capitano della sua squadra di Fantasarremo no è che ha visto ha sentito la canzone di Irkomi e ha detto almeno facciamo le flessioni perché se no questa ovviamente salutiamo anche Irkomi e poi si incastrava bene anche con le scelte che aveva fatto Amadeus dei cantanti perché mettici Irkomi mettici San Giovanni mettici Tananai mettici Labici Diamanti mettici che sono mamma di De Blanco mettici che sono ragazzi giovani che si divertono a fare casino Darjean d'amico è chiaro che Iva Zanicchi ha detto è stata una delle prime a dire papalina tra l'altro abbiamo non mi ricordo se nel regolamento c'era quello che ha fatto lei in television no questo male lingue male lingue non c'entra assolutamente niente quel bonus lì quello era un bonus che non c'entra niente con Iva Zanicchi quella era artista defecca sul palco adesso perché dobbiamo certo avreste potuto evitare di scrivere di nuovo nel regolamento diciamo che il punteggio non era un classico 50 60 70 ma era 50 più Iva ma l'Iva era l'imposto sul palco raggiunto infatti se qualcuno avesse defecato sul palco sarebbe stata messa 50 più Iva 61 61 giustamente giustamente non c'entra assolutamente niente Iva Zanicchi è abbastanza evidente che io di Fanta Sanremo e cioè di Sanremo in generale ho seguito abbastanza poco raccontateci di Eurovision di Vision così mi posso anche un po' preparare se sei già pronto esatto è Eurovision come Eurovision Eurovision come Fanta Eurovision tu considera che lui non sa niente quindi proprio raccontagli allora Europa partiamo dal concetto di Europa Europa e Australia che non è neanche un concetto così scontato partecipa anche l'Australia quindi partecipa è vera questa cosa è assurda perché? cioè c'era un motivo sì c'è un motivo e noi c'è stato spiegato dai veri fan io me la immagino come l'Australia che è andata in tutti i continenti a chiedere per favore cioè ragazzi vi prego non facciamo niente non siamo nessuno cioè non abbiamo niente in realtà non è così ma non lo sappiamo non lo sappiamo non lo sappiamo ce l'avevo l'anno scorso ogni anno mi devo riaggiornare e studiare io ad aprile mi metterò a studiare benissimo tutti gli aneddoti tutti l'Eurovision da 50 anni a questa parte e te lo saprò rispondere a metà aprile ma io scusate però l'Eurovision dell'anno scorso se ve lo ricordate è finito con i Manes in che hanno vinto al di là delle polemiche successive che sono dei drogati non drogati ma quelle lasciamo le stelle che tanto ma l'ultima cosa che è stata detta dal presentatore di dove erano loro non mi ricordo erano Bruxelles no Bruxelles è stato ha detto non sappiamo niente va che figata l'unica cosa sicura è che next year lo dirò proprio come lo diceva lui next year the Eurovision will be in the land of pizza and Sambuca allora ha detto pizza and Sambuca allora Sambuca foraggia esatto se vale qualcosa io mi offendo io mi offendo e chiedo la cancellazione di questo artista dal palinsesto di Bruxelles perché io non voglio essere ridotto e stigmatizzato a stereotipo di pizza e Sambuca vado in pizzeria e prendo una Sambuca dopo la pizza può essere però non è una cosa che mi piace se mi diceva pizza e Varnelli pure pure ma pizza Sambuca no non accetto allora noi adesso facciamo il conteggio di quanti i Pruchiz sono stati detti e lo facciamo però a posteriori lo faremo a posteriori e quindi il premio prima diamo il premio poi ti facciamo urlare una cosa importante sì assolutamente e il premio è pensato su quello che è riuscito a sbagliare tutto il Fantasarremo che è l'artista non so è come che non lo sai è arrivato ultimo con del Fantasarremo ah ultimo nel festival di Sanremo no no ultimo al Fantasarremo tra gli artisti cioè che che non ha fatto niente non è riuscito a fare nulla nonostante tra l'altro io no ha fatto tipo 25 punti una cosa del genere però 75 85 però è un artista che io apprezzo dispiace però è anche bello questo magari lui aveva fatto una squadra e non si era messo lui stesso in squadra e ha boicottato tutti gli altri fantallenatori però lui aveva una cosa che lo fa ricordare a tutti anche chi non ha capito la canzone o chi non ha voluto apprezzare la poesia tra l'altro è piaciuta molto a Willy Peyote quella canzone è stato uno dei primi fan che ha fatto l'endorsement che era la canotta la canotta quindi come premio della fantamerenda vai però chi ha vinto chi ha vinto fammi annunciare il vincitore allora ha vinto Irene vince la fantamerenda 2022 stai facendo il software c'è accortito dobbiamo cambiare Irene Nasda e vinci il truppo il premio il truppo d'oro bellissimo facciamo vedere questo è fatto a mano da me l'ho fatto io a mano il premio truppi vorrei far notare una cosa che si è crepato e proprio dove c'era la canotta quindi il problema come nella vita reale è la canotta però è il premio truppi bellissimo bello questo lo metteremo nel famoso bar papalina lo metteremo io comunque non credo che lo vedrà mai però vorrei comunque scusarmi con truppi perché io non sono chiaramente in grado di fare queste cose è una faccia marzo 2022 quindi c'è anche la posso dire che perlomeno ha chiuso in più truppi l'anno scorso c'è stato qualcuno che ha chiuso in meno è vero il premio Fasma e la cosa più bella di truppi è che dopo aver detto no ma io mi esibisco sempre in canotta no perché io mi sono sempre esibito in canotta e quindi mi esibirò ancora in canotta e ha portato sempre la canotta il giorno dopo la zia mare è andato con la giacca perché? non vorrei dire una cosa che lui non ha detto però io credo che lui pensasse questa cosa e ha fatto una battutina tra le righe credo di aver sentito dire quando io mi esibisco quando io suono quando io canto mi vesto con la canottiera da Mara in playback secondo me c'era una battutina c'era una battutina una frecciatina però questo lo penso io che sarebbe anche della stesso livello di poetica delle sue canzoni cioè comunque sottile fantasaremo si dissocia da questo lo dice Giacomo 5% amore 95% stringere i denti per citare il maestro va bene ragazzi dovete solo fare un'ultima cosa salutare il Prucciz a casa che ci guarda a questo punto non vale più perché avete già vinto io lo farei salutare a Irene con la sua voce normale senza urlare che è capace di controllarsi no? essere una persona più grande ciao ciao Prucciz e adesso lo facciamo dire a te però urlando non vorrei che poi dovessimo fondere già è già lì è già rotto un urlo per salutare il Prucciz un urlo ciao Prucciz grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti